Rose d'amare, tratti e ritratti al femminile. Patrizia Cavalli, non ho seme da spargere per il mondo. Patrizia Cavalli, non ho seme da spargere per il mondo. Non posso inondare i pisciatoi né i materassi. Il mio avaro seme di donna è troppo poco per offendere. Cosa posso lasciare nelle strade, nelle case, nei ventri infecondati? Le parole, quelle moltissime, ma già non mi assomigliano più. Hanno dimenticato la furia e la maledizione. Sono diventate signorine, un po' malfamate forse, ma sempre signorine. Da, le mie poesie non cambieranno il mondo. E in Audi, 1974. Sofferta percezione del mondo è il del reale della poetessa italiana Patrizia Cavalli. Todi, 1949. La realtà non è modificabile, come dice il titolo della raccolta, pubblicata quando aveva 27 anni. Un modo mezzo di decifrare la vita è questo diario poetico, che sia chiaro, non ha certezze, ma almeno diventa per qualche tempo rabbiosa ribellione contro l'ingiustizia dell'esistenza. Ciao!